Bella raga bentornati sul mio canale io sono Akira e se non avete fatto iscriviti dovete farlo subito oggi parliamo di un articolo colletto su channel fireball quindi uno dei siti più importanti per quanto riguarda magic the gathering e che si chiama 5 lezioni per diventare un giocatore di magic migliore diciamo che ho preso quindi ispirazione da quel pezzo per portarvi 5 consigli quindi per descrivervi in questo video 5 consigli con i quali voi potete diventare un giocatore effettivamente migliore di magic giocare a magic è una cosa complicata giocare a magic credo che sia uno dei giochi più complicati di tutti perché non è solo matematica ma anche statistica visto e considerato che non bisogna calcolare solamente quale mossa farà l'avversario come negli scacchi che non è facile per niente visto i miliardi di mosse e i miliardi di combinazioni che ci sono sulla scacchiera ma in magic bisogna calcolare anche le probabilità che una determinata carta esca che una determinata carta sia nelle mani del nostro avversario e così via quindi il nostro cervello deve riflettere molto velocemente non solo su qual è il board state per quanto riguarda i pezzi e quindi le pedine chiamiamoli così che ci sono che si stanno affrontando sulla scacchiera virtuale la board così si chiama di magic ma deve anche riflettere su quello che la casualità del mazzo sta per generare perché ogni volta ogni giorno l'output potrebbe essere diverso completamente e tutto quello che si riesce a imparare dalla casualità e dalle carte chiaramente la volta dopo cambia perché ci influenza molto sapere che magari abbiamo vinto una partita di magic tocdeccando e sperando che fosse la carta giusta lo facciamo la volta prossima e non ci riusciamo quindi il primo consiglio che voglio dare a tutti ripeto seguendo questo articolo di channel file che non posso farvi vedere perché è un articolo comunque a pagamento quindi oggi siamo praticamente io e voi parliamo e basta senza avere delle coperture lui lo chiama learn to learn cioè approcciatevi al gioco per cercare effettivamente di imparare qualcosa da ogni nuova partita o da ogni nuova esperienza quindi tutte le volte che pensate di appunto oggi mi guardo una sideboard guide di akira o un video di lsv e domani sicuramente riuscirò a vincere questo è un approccio sbagliato voi non dovete imparare per vincere dovete imparare per imparare imparare per cercare di migliorare quelle che sono le proprie skill da questo studio continuo del gioco e della materia legata al gioco che non si fa solamente ragazzi mi raccomando non si fa solamente giocando ma anche e soprattutto leggendo studiando e così via avrete chiaramente dei grandissimi benefici perché non si tratta appunto di imparare per vincere dovete accettare assolutamente altri fattori che contribuiscono alla vittoria e alla sconfitta all'interno delle vostre partite ma si tratta di imparare delle lezioni in determinate situazioni che poi voi potete riapplicare quando e se vedete un video appunto di menguchi che gioca un determinato board state e non dovete rigiocare la stessa carta in quello stesso board state anche se tra l'altro è molto difficile che succeda però mettiamo che l'avversario ha Yasharn in campo e voi avete 6 mana dovete decidere se fare un hydroid crisis da 4 o meno per affrontare Yasharn e per bloccarlo pescando solo due carte invece magari di fare una Nissa che si fa a 3 e che poi potrebbe essere uccisa la terra da un fatal push e anche la Nissa Mengo ha fatto una determinata cosa perché l'ha fatta quindi il punto è cercare di studiare quelle che sono le informazioni che vi vengono messe a disposizione per cercare di capire le motivazioni che sono dietro ad ogni decisione e non cercando di ripetere a paperella quello che succede Magic in questo soprattutto e nel cambiare le carte con la side è molto molto personalizzabile quando voi avete imparato perché poi potete effettivamente lanciarvi in determinate giocate che non sono veramente banali che riescono a colpire l'avversario in determinati punti deboli quando guardate la vostra side voi avete il vostro come si dice la vostra le vostre sideate messe da una parte su un foglietto perché sapete che nel determinato match up quella carta è forte e quella carta è scarsa prendetemi un attimo riflettete e se volessi cercare di sorprendere il mio avversario cosa farei? potrei per esempio decidere che anziché levare delle creature o se ho delle creature inside potrei decidere di metterle tutte dentro anche se l'avversario sa che io comunque gioco delle creature pericolose eccetera questo tipo di sideata è qualcosa che io ho visto fare da giocatori veramente molto molto forti e che quando sorprendi l'avversario ma io non pensavo molti dicono ma è da scarsi sai dare questa carta in questo match up e poi ci perdono ed è proprio quello che succede molte volte all'interno delle partite di Magic quindi fate attenzione a questo aspetto perché secondo me è fondamentale quindi lezione 1 consiglio 1 imparate per imparare seconda lezione dobbiamo appunto quello che era stavo parlando prima bisogna accettare i risultati e bisogna capire che il gioco è un gioco di fortuna bisogna accettare la varianza e mi raccomando non date la colpa a quella non date la colpa al fatto che è un gioco appunto di fortuna no cioè si è un gioco di fortuna ma i risultati e i risultati che otterrete dalle vostre prestazioni dipendono da voi e se quante volte avete sentito la frase quante volte avete giocato in un torneo cartaceo e ma se non pescavi quella io però avrei vinto quante volte avete sentito eh ma comunque ho sbagliato ma avrei perso lo stesso quante volte avete sentito vabbè ho mullicato a 5 quindi cioè è normale che perdo cioè un po' doig ragazzi tutte queste frasi sono scuse nel senso tra l'altro attenzione non solo quante volte l'avete sentito quante volte l'avete pronunciato anche io cado in determinate debolezze penso che ehm sia effettivamente eh stata colpa di eh una determinata carta pescata al momento giusto al momento sbagliato la mia prestazione di oggi però se uno si ferma invece a riflettere su come la giocata e come quella pescata è stata creata vedrete che si incontrano attenzione io ho comprato una luce nuova fantastica che si è spenta vabbè era accesa all'inizio spero che si veda nel video ehm dicevo quante volte eh appunto voi andate un torneo perdete magari per sfiga e vi manca di imparare una cosa fondamentale che è vedere quali sono stati invece i vostri errori in tutto il torneo mettiamo questo fate un torneo quasi perfetto ma che vi arrivate in svizzera terzi poi dovete giocare quindi contro il sesto e perdete quella partita là ma la perdete per sfiga date la colpa a quella partita di sfiga andate via dal negozio preoccupati dicendo ah caspita ho perso una come al solito sono arrivato in top 8 ho perso subito non ho vinto nessun premio ma magari nelle altre partite vi siete dimenticati di guardare qualche vostro errore quindi cercate di concentrarvi su quello ok cioè non è vero ci sono delle partite che voi non avreste potuto fare niente di diverso per vincerle niente ma in magic conta che voi di partite ne fate tante segnatevi tutte le partite che fate lo so ci sono i tracker i tracker già da soli su magic arena sono fantastici io vi consiglio untapped ma fate di più segnate le partite giocate con un avversario segnate come si chiama e che mazzo aveva quando finisce la partita dopo le salitate scrivete che cosa secondo voi avete sbagliato nulla ok c'è magari una giocata di terra una sequenza avete sbagliato avete giocato una nissa poi avete fatto un fable passage avete come ho fatto io tra l'altro in live proprio lunedì scusate martedì avete fatto fable passage e vi hanno ucciso nissa mentre voi potevate fare una sequenza diversa ok è un errore banale poi magari il game lo vincete lo stesso è quello il punto ma voi vi dovete segnare i vostri errori e dovete accettare il fatto che giocare perfetti non basta perché bisogna anche scegliere il mazzo giusto al momento giusto ma una volta che avete sicuramente giocate perfetti scegliete il momento giusto il mazzo giusto al momento giusto i risultati arriveranno non c'è niente di diverso da fare non si può non è possibile che non che non arrivino i risultati io di questo sono assolutamente convinto allora il terzo consiglio che viene dato in questo articolo è un consiglio su cui io sono abbastanza d'accordo ma non troppo e cioè giocate e imparate da quelli che hanno meno esperienza di voi perché avete mai sentito questa frase nei torni di magic che è ho perso perché lui era più scarso perché lui ha giocato al contrario lui ha giocato come lui ha giocato al contrario quindi ha fatto delle giocate che io non mi aspettavo perché sono giocate scarse che non vanno fatte in quello spot io ho pensato che avesse altre carte e ho perso ok questo tipo di approccio chiaramente al di là di essere molto negativo e non non insegna la vittoria effettivamente potete trarre un insegnamento da chi da giocare con gente che è meno forte di voi è meno esperienza di voi potete trarre molti insegnamenti in verità non uno qui addirittura nell'articolo viene raccontato che John Finkel utilizzava questo metodo lui era uno dei più forti giocatori del mondo e ha detto giocando con le persone meno esperte che cosa mi succede? mi succede che giocano carte che non sono nel formato perché magari sognano e portano i pazzi romantici come diciamo noi con carte che non sono da Roma e quindi carte che effettivamente non sono forti questa cosa qui ha molto valore a livello di insegnamento perché vi permette di sperimentare anche in costruito delle situazioni che non sono delle situazioni che solitamente vivete e questo è molto importante questo effettivamente è una cosa che può farvi crescere come player perché capire come ha ragionato il vostro oppo magari anche chiederlo tutte le volte cercare di andare al negozio per imparare dagli altri anche se sono meno esperti di voi è una cosa che potrebbe portarvi a essere non solo un giocatore migliore ma anche una persona migliore perché chiacchierare con questo tipo di persone vi fa capire anche i loro ragionamenti e da tutto si può prendere un insegnamento quarto punto non concedete mai molte volte nei video mi avete detto ma tu hai concesso troppo presto no ma non dovevi concedere eccetera ragazzi io faccio video quando faccio video chiaramente io voglio portarvi un contenuto fresco veloce e rosico anche se i giocatori giocano lenti perché io non ho il tempo di montare se no non sarei qui su youtube e non ho il tempo di montare i miei video di levare tutte le parti le parti in cui me la prendevo con la luce spenta che non so che gli è successo le parti in cui faccio uno sbadiglio le parti in cui non sono abbastanza veloce a parlare non ce l'ho questo tempo qua quindi è evidente che io cerchi di portare dei contenuti che sono molto molto veloci ma nella realtà io è difficile che effettivamente conceda ci sono due motivi sul perché allora innanzitutto anche se voi avete perso in board avete vi sta attaccando una tre tre siete a sei vi attacca vi manda a tre pescate pescate terra quindi siete morti e concedete sì ok va bene ma se non concedete e vi tenete quella carta c'è ancora una piccolissima possibilità che l'avversario sbagli quindi è vero succederà una volta su cento magari lui è pieno di counter avrebbe attaccato lo stesso e voi avete solo perso un po' di tempo ma quella volta su cento che vi ripaga del fatto che non avete concesso è molto molto più importante delle altre e queste cose ragazzi succedono continuamente se vi tenete le carte in mano soprattutto e non date informazioni ai vostri avversari l'avversario può essere indotto a sbagliare può essere indotto a sbagliare anche così da una carta da una semplice carta in mano ok quindi l'altra cosa che invece è importante diciamo citare sul fatto di non concedere è il fatto che ok voi avete perso avete perso in board le carte non ce le avete eccetera ma potete ancora imparare qualcosa dal prossimo turno dell'avversario magari lui fa una giocata che non avete visto mai voi avete perso lui pensa che quella carta in mano sia removal invece è una terra voi non l'avete concesso e lui per evitare quella removal fa una giocata che dite ah caspita la prossima volta sono in mano removal devo fare devo tirarle nell'up keep cose del genere questa è una cosa molto importante ed è una cosa che chiaramente non si impara se quando pensate di aver perso prendete le carte e ve ne andate perché evidentemente date un po' di vantaggio al vostro avversario quinta e ultima e ultimo consiglio quindi ragazzi magic come vi ho sempre detto magic è un gioco che secondo me spiega tanto anche della vita anche negli scacchi c'è molta psicologia vedere come gioca un giocatore di scacchi vedere come un giocatore un giocatore di magic significa anche conoscerlo conoscerlo come persona quindi non non abbiate il vostro focus solo ed esclusivamente sulla vittoria cercate di ragionare così io gioco a magic non per vincere ma per diventare una persona migliore diventare un giocatore migliore e anche una persona migliore perché il gioco può effettivamente insegnarvelo e ragionare cioè avere come motivazione solo ed esclusivamente vincere vi porta ad avere delle fasi di down molto brutte e se non riuscite a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati tipo arrivare al medic championship o vincere il qualifier satellite o vincere 2000 dollari all'arena open ci sono andato così vicino caspita stavo 5-0 poi ne ho perse due di seguito caspita no sono un fallito eccetera no 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 la ragione per cui voi dovete cercare di giocare a magic non è vincere questo l'ho già detto ma migliorarvi tutte le volte tutte le sconfitte devono portare a un miglioramento anche minimo rispetto al vostro mindset e rispetto a come giocate le partite di magic e come affrontate anche conversazioni nonché appunto pezzi della vostra vita è importante è davvero importante perché se nella vostra mente avete solo la vittoria cercare di vincere ripeto l'abbiamo detto prima c'è della varianza e c'è chiaramente la possibilità di perdere e la possibilità di perdere ci sarà sempre in questo gioco anche se siete il giocatore migliore del mondo stai giocando col più scarso voi pescate solo terre lui pesca solo spela voi avete perso e lui ha vinto voi siete il giocatore migliore del mondo avete fatto tutti i consigli sapete non perderete comunque quindi non la ragione per cercare di migliorarsi intorno a questo gioco non deve essere perché io voglio vincere i soldi voglio diventare un giocatore professionista no la ragione deve essere un'altra la ragione deve essere diventare appunto un giocatore migliore e possibilmente una persona migliore come al solito ragazzi grazie per il vostro tempo grazie per aver guardato